grande paola oggi sei la prima buongiorno buongiorno francesca si ora il sole insomma tanto sole non c'è buongiorno buongiorno a tutti buongiorno giuliana chiara buongiorno francesca buongiorno 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 a tutti oggi siamo entrati ora non direi precisi lo sapete arrivo sempre prima abbiamo 5 minutini adriana buongiorno pippo buongiorno grazie 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 buongiorno valentina grande adriana buongiorno buongiorno ragazzi ovviamente io comincio già a chiedere chi è che si allena con me buongiorno ire buongiorno stefano vi voglio pronti non so se si vede qua dietro di me c'è un pallone che vi servirà dopo perché hai il pallone grande paola o in diretta benissimo oppure un così a posto del del pallone un cusino grosso chi c'ha il ring del pilates va bene ring del pilates ognuno quello che ha praticamente ok che ci servirà per l'interno cosa ovviamente la sedia la vedete non c'è lezione senza sedia ok tre minuti partiamo la musica penso e si sente di già però ovviamente io dopo la metterò buongiorno 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 ragazzi ciao rita buongiorno preparatevi preparatevi grande lavoro anche oggi sulle gambe gag gambe addome glutei insistiamo un po di più sull'addome oggi che di solito ve lo lascio sempre per ultimo e e facciamo poco a terra però in realtà l'addome me lo usate sempre allora a proposito ormai e ci dobbiamo mettere le capigliere si paola quando andremo a terra e mettiamo le capigliere subito ok le puoi usare subito quando andiamo giù addirittura ormai c'è gente non li leva neanche quando facciamo gli addominali e a proposito stavo dicendo degli addominali tutte le posizioni che noi prendiamo di plank sia con le braccia distese o con le abbraccia appoggiate ok è il migliore allenamento che c'è per l'addome ok il plank è un esercizio completo e perfetto per tutto il corpo ok ovviamente ci sono degli errori non potete mettervi in posizione e abbandonare la schiena in questa maniera ok ovviamente proviamo sempre ad avere la schiena più dritta possibile noi sulla sedia ci appoggiamo spessissimo quando vi appoggiate sulla sedia ricordate il discorso della schiena che vi ho appena dato che non è che te ti devi abbandonare in questa maniera noi non facciamo i piegamenti con le braccia però ho visto svariate volte questo anzi ho visto questa cosa questo non è un piegamento a terra ok va bene allora per cercare di avere la schiena piatta ok noi non facciamo i piegamenti non useremo le braccia però questa posizione si la schiena non così qui ok me la correggio un po con una leggera retroversione stringi il gluteo bellico dentro va bene quando ci vorrai momento è molto importante non li qui non fai niente forse ti fai male basta ok oppure ti allunghi va bene ma siccome noi non lo facciamo in allungarsi ok usate l'addome va bene ragazzi guarda sono diventato rosso solo a farvi vedere cosa dovete evitare l'età avanza ma avanziamo anche noi ragazzi e sono già le una e mezza io ammetto e penso che si senta e partiamo vieni 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 4 3 2 step 4 3 2 inspira 4 2 spalle dietro 4 3 2 spalle gomiti 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 e all'interno le spalle 4 3 2 dammi il gomito 4 3 2 spalle guap coppia gamme il braccio agцевa che cruciale le conclusions braccia indietro, eh, quattro, tre, due, alterno, tutte e due, alterno, tutte e due, e braccia avanti, vieni su, e, quattro, tre, due, avanti, e, e su, avanti, molto bene, e su, e, ok, giro e allungo il braccio, quattro, tre, due, ora vieni su e piega il torace, molto bene, quattro, tre, due, vado giù, e, e, su, e, giù, e, e, su, apri e chiudo, quattro, tre, due, incrocia, quattro, tre, due, e, e, su, avanti, e, su, ok, andiamo alle gambe, tramite il pallone dietro, quattro, tre, due, e, dai le ginocchia, su, quattro, tre, due, e, talloni dietro, e, ginocchia, eh, ginocchia, eh, ginocchia, dammi le ginocchia avanti, come facciamo sempre, gira con il torace, quattro, tre, due, su e giù con le braccia, quattro, tre, due, giro, ancora, e, su e giù, e, giro, e, su e giù, apri più dopo, e, quattro, tre, due, e, ferma le braccia, concentrati al torace, piegati in avanti, quattro, tre, flexo, torsione a sinistra, flexo, torsione a destra, che vuol dire, piego il torace in avanti, giro, eh, ricordate però, non muovo le braccia, cambio ancora, e, quattro, tre, due, cambio, ok, quattro, tre, due, step, touch, abduzione, pronti, alterna, abduzione, ok, sempre abduzione, ma aggiungo calcio, ok, abduzione, nota bene perché, ecco, il torace, verso il lato opposto, e calcio, cammino solo la sinistra, bravo, esenzione, da combattimento, eh, ancora, puoi muovere le braccia perché lo stiamo combattendo, se vuoi, oppure, posizione da combattimento, cambia, e, non importa andare altissimo, ok, però ricordati di essere piegato, poi ovviamente me lo farai, con lo squat a sumo, ormai lo sai, step, touch, benissimo, cominciamo un po' sulle varie patiche, vando avanti con la gamba destra, uno, due, in avanti, tre, quattro, indietro, pronti, andiamo, nota che le gambe in avanti sono larghe, quattro, tre, due, ovviamente viene avanti la gamba sinistra, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, voglio quattro con la destra e piega le gambe quando viene avanti, due, tre, e con la sinistra, uno, due, tre, facciamo un e uno, eh, e, uno, due, tre, e, quattro, cinque, sei, sette, e fermati qua, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, vieni su, cambia lato, uno, due, c'è la sedia dietro, e, quattro, tre, sali, cambia lato, sono tre, salgo e cambia lato, e, uno, due, tre, salgo e cambia lato, uno, due, tre, ragazzi, questa è una versione semplicissima, ovviamente tu lo sai che io faccio come, così, uno, due, tre, faccio proprio un pello, qui c'è la sedia, ma lì c'è il mobile, lo vede, vado a destra e a sinistra, vero? Uno, due, o come si fa a me, bruciano già le gambe, uno, due, tre, rimane al centro, uno, due, tre, e, quattro, ti muovo molto bene, non mi sono sotto le scarpe, e, come si può a legare le scarpe? E si rimane giù, uno, due, tre, quattro, guarda, se ti capita di fermarti per strada, se ci sono sotto le scarpe, approfitta, ti fai un bel squat, e tu le lì, le mani lì, e giù, su, in tempo di legare la scarpa, ok? Mi piace, uno, due, tre, molto bene, ragazzi, siete aperti, siete pronti ad aprire la squadra sumo, tre, uno, due, tre, scuota, sumo, uno, due, tre, scuota, sumo, uno, due, tre, scuota, sumo, l'ultimo, pronti per la sedia? Senti là! Io voglio più volume, 4, 3, 2, scuota, sumo, che posizione è? A fondo, che posizione è? A fondo, non così, qui, e, uno, due, tre, e, quattro, cinque, sei, sette, e setia! E, giro e, apri e chiudo e, Ragazzi! Quattro, tre, due, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, setia! Forse ho fregato, perché mi sa che ho fatto sette e non otto, giro! Apre e chiudo! Ragazzi, l'ultimo! Subito! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, E, ancora alto! Uno, due, sei, sette, cinque, quattro, tre, due, sei! Gira, 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 gira! Gira, gira, gira! Apro! Ehi! Rimani! Ehi! Quattro, tre, due, sei! Dodici minuti! Subito! Ah, mica stai per bene! Molto bene! Molto bene! Occhio! La tua gamba sinistra andrà verso sinistra e il ginocchio verso destra. Occhio! Uno, due! Ok! Facile! Guarda, eh! Ti puoi anche appoggiare! Va bene? Pronti! Veloce! Veloce! Oh! Nota come viene il ginocchio e come allungo la gamba! Mica chiudo il stallone al gluteo e calcio! Tiro, allungo! E! Lavorate con l'addome, eh! Quattro, tre, due, squat! Ehi! 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 Ok! Ragazzi, una cosa semplice, 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 semplice! Girati verso la sedia! Molto bene! Invece di salire, tu andrai a sederti sulla sedia, sederti per mobilire, cioè farai questo e tornerai, ovviamente una volta da un lato, una volta dall'altro! Siete partiti, vero? Uh! Uh! Due! Aha! Uno, due, tre! Aha! Sono altre due, è finita! Uh! ultimo senti a mamma mia non sento più levato tira 4, 3, 2 toglie solo da sinistra guarda il mio coraggio cambia gamba partita avanti piano vai dietro 4, 3 squatta sumo lo sai lo sai 8 7 6 5 4 3 vi avreste capicato dalla posizione del squatta sumo 8 7 6 5 4 3 2 cambia gamba e ci vuole felicità dice questa altra si chiama happy è quello dopo parto ok hai già cominciato a calciare vero e sono solo 8 ancora ragazzi 8 7 6 5 4 3 2 1 rimani giù che sudata meno male avevo freddo prima 4 3 e 2 e 6 via oh 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 gira avete visto che simulano i miei piedi qui c'è tratta di lacco apri chiudos eh fermati 4 3 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 4 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 15 15 15 16 15 15 15 15 16 15 16 16 16 20 Il telefono, perché ovviamente voi mi dovete vedere, senza che cada. Allora, penso che lì, un po' mi si vede. Allora, abbiamo detto, pallina tra le cose. Cuscino tra le cose. Il marito che prova ad aprirti le gambe e tu glielo chiudi e tu gli dici che te lo devi guadagnare. L'allenamento, dico, eh? L'allenamento. Eh? Va bene? Quattro, tre, due, chiudo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette, e tolvia veloce. Hop, 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 chiudi, eh? Ti rende l'opio per un giudizio. Ti sono passati venti secondi. Mamma mia! No, ancora non lo dici, lo dici dopo. Oh, ragazzi! Ti, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, tre, quattro, hop. Ogni volta vado su, aiuto le gambe. Com'è liberatorio cantare? Non importa se il cartibone, basta urlare. C'è l'urli e tu ti sfoggi. C'è l'urli e tu, aiuto, bam, bam. C'è l'urli e tu, aiuto. C'è l'urli e tu. Chiudo, chiudo, chiudo. ci siamo ragazzi ci siamo 5 4 3 2 1 apri bene con la maniera apri, apri, apri no, io non leggo più i vostri commenti io qui la situazione sta succedendo di mano ok ragazzi mani dietro la testa 2 tempi in su 2 tempi in giù crunch normale lasciate giù la testa andiamo 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 7 5 5 4 3 2 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 4 3 1 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 5 5 6 7 8 4 3 2 4 4 5 6 7 8 7 8 7 8 8 9 10 10 10 9 9 10 10 10 12 11 12 13 12 13 13 15 16 16 16 17 Ti metti la musichina bella Ti prepari un bandrenca Con la canuccia E tu mi fai l'interno col chat Manina sul ginocchio Sguardo spettacolare Concentrati su pelle Sopracciglia piegati in maniera esagerata E tu fai Labbra Questo è stile Passo la gamba lì Torna giù Stacca anche l'altra Andiamo su Uno Sette Sei Cinque Quattro Tre Due L'importante è non pensarsi Perché se ti metti a pensare non cambi lato Ok Buona prima Ti metti in posizione Prepari la gamba Prepari lo sguardo Il drinker Drinker Con G e non con K Drinker Pronti? Allora Ripartiamo Sopracciglia Mamina Mamina Labbra Deve avere stile quando fai l'esercizio Basta non pensare Se non ci pensi Tu me lo fai tranquillamente Anche se hai 30 kg di capigliera Paola Penso che tu abbia messo almeno 5 kg per gamba Eh Voglio Nei commenti Per lo sguardo Voglio le vostre foto con lo sguardo Ci siamo Lascia la gamba lì Stragliati Sono solo 8 Andiamo 8 Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Mi si sono incornicolate le gambe Facciamo tutti insieme E tu lo sai La tua gamba sinistra La tua gamba sinistra Si incrocia E va sino obliquo Via Su Il Sì Sono appena abbassati 35 secondi Sono appena abbassati 35 secondi 50 secondi No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no And it's too The three two Oh 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 Ah 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 Senta ancora qua Oh io quel numerino che dice live accanto fa vedere le persone e partiamo la lezione ci sono 50 persone poi sembra il countdown 49, 48 46, 45 siamo arrivati a 7 fra poco mai 6, 5, 4 da solo sarò alla fine gamba destra tranqui 4, 3, 2, 3 5, 4, 3, 4 ragazzi manca un minuttino e buonare 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 Vietti 4, 3, 2, 1 Ok Buono ragazzi, buono, 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 buono Obriqui E abbiamo finito Allora, gamba sinistra in aria Mano destra, teatro a destra Braccio sinistro lateralmente Non ne ho oltre la spalla, sotto la spalla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4 2, 1 Dammi altri 8 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Rimani su 1, 2, 3, però musichina oggi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le ultime 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimanisco e abbandonare, unisco i piedi, spingo le ginocchia in giù. Provate a spingere un po' le ginocchia in giù, 4, 3, 2, ok, appena le gambe, tondola, ragazzi, e da un po' che non facciamo le spinte in giù, prima che tu vada a spingere, questo che farò ora, non è quello che io vorrei, ma è quello che tu di solito fai. Spinta in giù non è questo, perché questo è, vado dietro e poi spingo in giù, spinta in giù è questo, ok? Ehi, non ho detto è facile, perché ho sentito qualcuno ha detto sì e... Allora, anche così, mi va bene, andiamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, proviamo a girare al terra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembrava avessi fatto danno. Gira, allunghiamo un po' l'addome, ragazzi, e 4, 3, 2, go, gamba sinistra in avanti, ago, 5, 6, 8, 6, 7, comportò, 8, 3, 4, 5, 6, 7, sui, occupi sono un popolo, ragazzi, vedeva cauda, molto cancioni di qualche anno fa ma tutte selezionate bellissime una dopo l'altra spero che vi sia piaciuto spero che vi sia piaciuta la lezione gli esercizi, la fatica io sono contento ogni volta perché mi sento di aver dato e quello è il mio consiglio date 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 per avere buono, buono, buono allunghiamo un attimo la schiena molto bene ragazzi salite con calma buon weekend a voi ragazzi sentili, guardali che faccia ragazzi spero sia andato tutto bene scrivetemi avrei voluto vedere la vostra faccia mentre facevate una cosa del genere perché doveva essere così e spero di vedervi da vicino perché non ce ne può più ragazzi buon weekend a tutti scrivetemi fate quello che volete però scrivete perché voglio leggere perché voglio leggere